Buongiorno, sono il dottore Andrea Ferrero e vi presenterò ora alcuni esercizi, 8 per la precisione, da eseguire dopo l'intervento di Alluce Valgo. Si tratta di un'operazione chirurgica eseguita molto frequentemente e della quale vi lascio il link alla fine del video. Gli esercizi che troverete di seguito sono quelli che attualmente consiglio alla quasi totalità dei miei pazienti, tenendo presente che quanto vi mostrerò non vuole sostituirsi a quello che il vostro fisioterapista o il vostro chirurgo vi suggeriranno. Questi esercizi possono essere eseguiti da subito a patto di non superare la soglia del dolore. Il primo esercizio è quello del linfodrenaggio per cercare di ridurre il gonfiore del piede, che è la complicanza più frequente dopo ogni intervento chirurgico di questo tipo e che a volte tende a permanere per diverse settimane, a volte anche per diversi mesi. Mettetevi seduti o distesi sul divano o sul letto. Eseguite dei movimenti circolari esercitando una minima pressione con i polpastalli delle dita nella zona attorno alla caviglia. Eseguite questo movimento per circa 10 secondi. Successivamente con entrambe le dita effettuate una compressione partendo dalla punta del piede ed arrivando nella zona del polpaccio. La stessa tecnica può essere effettuata anche da un vostro familiare, sempre a condizione di non superare il limite del dolore. Eseguite questo esercizio per 5 minuti due volte al giorno. Effettuate un movimento attivo ma lento di flessione ed estensione delle dita del piede, partendo da un movimento più limitato per arrivare ad un movimento con un'ampiezza maggiore. Eseguite 20 ripetizioni due volte al giorno. Anche questo esercizio può essere iniziato subito dopo l'operazione. Con una mano fissate il dorso del piede e con il pollice e l'indice della mano opposta afferrate la prima falange dell'alluce e iniziate a eseguire un movimento di flessione all'insù e all'ingiù. Eseguite 10 ripetizioni due volte al giorno con un movimento lento e senza avvertire dolore. Usate una pallina da tennis per eseguire un movimento di rotolamento in avanti e in indietro. Eseguite l'esercizio per 5 minuti due volte al giorno. Mettete sul pavimento un grosso pennarello e tramite un movimento di flessione attiva delle dita cercate di afferrare e mantenere l'oggetto con le dita del piede. Mantenete la contrazione 5 secondi e ripetete l'esercizio 10 volte. La rimozione del bendaggio avviene generalmente dopo 2-3 settimane da parte del chirurgo. Qualora il vostro medico vi concedesse di farlo potete rimuoverlo con una semplice forbice. A questo punto se la cicatrice chirurgica sarà in ordine sarà bene iniziare subito dei pediluvi in un catino con acqua leggermente fredda e molto sale fino da cucina tenendo il piede immerso per 10 minuti almeno due volte al giorno. Fate passare un asciugamano o se ce l'avete a casa una fascia elastica sotto la pianta del piede e tenere successivamente l'asciugamano con entrambe le mani. Cercate quindi di portare il piede verso l'alto e ripetete questo esercizio per 15 volte tre volte al giorno. A piedi nudi davanti a un muro o davanti a un mobile per potervi appoggiare cercate di stare in equilibrio sul solo piede operato cercando anche di eseguire dei piccoli movimenti con il bacino. Eseguite questo esercizio per 5 minuti e ripetetelo almeno tre volte al giorno. Indossando delle scarpe da ginnastica appoggiate entrambi i piedi su un gradino della scala di casa, appoggiatevi al corrimano e cercate di scendere dolcemente con il tallone tenendo il occhio dritto. Tenete la posizione per 5 secondi, portatevi in punta di piedi per 1-2 secondi e ripetete l'esercizio per 15 volte. Eseguitelo tre volte al giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.